Non entrate mai nel vero seed di solar su minecraft Anche perché ve lo dico, ve ne pentite C'era qualcuno che fischia Cos'è? No no no, per favore, cosa sta succedendo? No, sul serio, fa paura, non entrateci E ragazzi, io mi trovo in questo seed E qui vedo il sole, ma questo non è solar Però come vedete questo non è un seed normale Quindi secondo me solar appare, probabilmente si è nascosto da qualche parte Quindi cerchiamo di capire che cacchio c'è in questo seed ragazzi E in che modo solar si è nascosto Perché finora non l'abbiamo mai visto nascosto Beh, iniziamo a raccogliere le prime cose Stiamo attenti, peraltro questa cosa, questa nebbia qui ragazzi Ma che cacchio è? Ma andate sul serio, guardate Eeeh, che bello Probabilmente sono tipo le nuvole, siamo all'altezza delle nuvole immagino Ok, abbiamo ancora tutto il giorno Stavo guardando, stavo cercando di capire in che direzione andava il sole Dobbiamo fare in fretta e farci tipo una base Una postazione al sicuro Prima che arrivi la notte ragazzi Perché sono abbastanza certo che Non sarà un bel vedere la notte qui purtroppo Ecco, prendiamo peraltro anche tanto cibo Perché più cibo abbiamo meglio è Vabbè, questi sono sempre i polli classici Che si fanno fuori giustamente per mangiare Tutti lo fanno, no, dopo tutto Chiaramente su Minecraft Ehm, ma anche, insomma, vabbè Anche da altre parti, no? Mh, scusate signori vegani Qua ci sono delle, dei posti abbastanza strani Ok, ci sono dei minerali Il che è perfetto Perché vorrei prendermi Il carbone Utile Ok, d'accordo Continua a prendere il carbone Eeeh, c'è uno zombie Ok, continuiamo a prendere i minerali Perché ci servono Ragazzi, se mi vedete che faccio cose strane Vi dico una cosa Non spaventatevi, non sto impazzendo È che gli zombie mi fanno questo Gli zombie, le cose strane Mi fanno questo effetto Dovete sapere questo Ah, no, questo però è stato brutto Questo non è stato Ma ragazzi, ma c'è qualcuno che ride O mi sbaglio? No, c'è qualcuno che ride Ragazzi, ma chi cacchio è? Ma che, chi è questa qua? Eh, io so Dalle zone pericolose come questa Perché praticamente Orco 2 Questo è uno scheletro Proprio brutto Questo c'ha le ossa Ok No, 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 no Non mi farai del male, sai? Non questa volta almeno Che figlio di scrofa Guardate Era questo che sorrideva prima Cioè che No, ragazzi No, 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 no Voi siete fuori di testa? Ma voi mi volete male Mi volete uccidere Ok, mi vogliono uccidere Quindi Preveniamo questa cosa Prendendo altro ferro Stavo dicendo Ma prendiamo questo bambù Ci serve a qualcosa Sicuramente Ma non è vero Non ci serve a niente Che cacchio ci serve il bambù? Proprio a A niente Ragazzi Vedete quello che vedo io? Vediamo Andiamo lì Dai Forza andiamo Perché lì c'è qualcosa di bello Evidentemente Però paura che qui Arrivino Arrivino gente brutta E vedete il sole? Sta scendendo Il sole cattivo cattivo Che secondo me Nasconde il solar Ne sono abbastanza sicuro Però non tanto Ok Prendiamo il cacao Buono il cacao Perché Vedete Perché sto Ho preso il cacao Perché l'ho fatto? Oh mio dio Ma che bello Wow Ok Bello Però io avevo visto Un'altra cosa qui Avevo visto Una costruzione Tipo grande Ma grande Dove è finita No non c'è più C'è solamente questa caverna E peraltro lì Vedete lì in fondo Ma che nebbia è quella? Non l'ho mai vista su minecraft Ma magari sarà per la shader Che ho messo Ok Ragazzi Ho paura che la notte sia brutta Quindi quando la notte diventa brutta Noi dobbiamo diventare più brutti della notte No? Non c'è niente lì? C'è un Ok c'è un bio Ma strano devo dire Ma niente Niente di troppo brutto Quindi dobbiamo diventare ancora più brutti Delle brutte cose Quindi Che abbiamo qui dentro Bro stai fuori Chiunque tu sia stai fuori Me ne frega Proprio niente Ma scusate Ma pure io Ma perché sto facendo La casa su una montagna? Allora possiamo trovare delle ipotesi Per questa cosa Dico Potrebbe essere utile In effetti Farsi la casa sulla montagna Perché se vedete Qui Nessuno può arrivare Chi c'è che ci arriva qui? Eh La nonna Non lo so La nonna che arriva Col Carrello della spesa Un po' in demenza senile Sapete cos'è Ho sentito qualcosa Forse non è più il caso Di scherzare con la nonna Era la nonna ragazzi Ma No sul serio Ho sentito qualcosa prima Ok Non so se devo preoccuparmi o cosa No ragazzi C'è qualcuno Chi c'è? No ragazzi C'è qualcuno C'è qualcuno che fischia? Aspetta Cos'è quella roba? Quella è lava C'era qualcuno che fischia Cos'è? No 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 per favore Cosa sta succedendo? No ragazzi No ragazzi No ragazzi Non stiamo vicini alle pareti Le pareti sono pericolose Le pareti sono pericolose Allora fidatevi di me Qui ce ne usciamo vivi Per forza Per forza Ok tranquilli Non preoccupatevi troppo Ok Devo restare lontane Dalle pareti E dagli angoli Come vedete Sto balbettando Perché sono molto Spaventato Ok Facciamo una cosa Scaviamoci Per vedere sotto Però no Non possiamo Non possiamo C'è ancora il tizio Che sta attaccando Non possiamo Cosa facciamo? Non so Cosa dobbiamo fare? Tipo Scavo Finito ragazzi No 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 Inquietante No 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 Brutto Non so cosa fare ragazzi Aiuto 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 Non c'è nessuno Qui fuori Oh mio dio Non c'è nessuno Ok Allora Tutto bene Qualche finisce bene Cioè Non è finito niente Quindi il mondo Sappiamo per certo Che è maledetto Vero? Messa di sì Forco due Ragazzi Ma Che cacchio Ma ragazzi Ma quello è lunar Sì vedete Quello è lunar Un po' pixelato Un po' rotto Non so come mai Noi non abbiamo le pecore Non abbiamo il letto Per dormire Questo potrebbe essere Un problema No ragazzi Che cacchio ha Lunar Perché è così Rotto Perché è così strano Guardatelo Mio dio Ogni volta che Entriamo in questi mondi Diventa sempre più Pauroso e pericoloso Lì ci sono le pecore Potremmo dormire Con le pecore Ok allora Abbiamo una scelta da fare Ragazzi Punto primo Andiamo a prendere le pecore E rischiare quindi La nostra vita Punto secondo Restare qui Per tutta la notte E Potremmo Rischiare Rischiare comunque Cosa volete che facciamo Io direi più Di andare a prendere Le pecore Ok c'è un zombie villager No però Ecco gli scheletri E cose Cattive No No Scherzavo Non voglio più Non voglio più Avete sentito? Io non voglio urlare Sapete che Tipo sono le tre di notte Ecco appunto Non giocate a minecraft Alle tre di notte E anche per il motivo Per cui sto parlando Più basso Guardate ci sono altri Occhi che ci spiano Dal buio Porco Vaccone Ok Attenzione Faccio uno scheletro Che vuole proprio Farci fuori In modo Silente No 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 Gli scheletri no Per favore No Accidenti Basta Basta Ok Mangia Perché non mangia più? Ah perché stavo Mangiando il ferro Ora ragazzi Andiamo Immediatamente Qui Prendiamo delle pecore Evitiamo lo Scheletro Come fosse Non lo so La cosa più brutta del mondo Quindi tipo Vabbè Qualcuno Non faccio battute In questo momento Non c'è bisogno Di fare battute Quello di cui abbiamo bisogno Sono le pecore E vabbè Poi i creeper Le madonne Cosa volete Va bene D'accordo Ok bro D'accordo Non mi preoccupo affatto Tu sei un bro Prendi queste pecore Ok perfetto Scusate il cringe Veramente Mi rendo conto Però a volte Io faccio Queste cose strane Ho queste Queste manie Di Di rotture Non so ragazzi Vabbè comunque Prendiamo le pecore Ok perfetto Usciamo Via Via No 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 Raga Raga Io esco dal gioco Non sopporto Questa cosa Mi fa troppo paura Messo la palla Per un cacchio Di motivo Porco Due Porco due Porco due C'è Lunar Che ci spia Da lì No 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 Tua madre Tua madre Veramente una gran vaccona No scusate Ok Che verso Ho fatto Raga Sono i versi Che faccio Quando mi spavento Tu non mi spaventerai Di nuovo Mi vuole spaventare Sentite Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Tua madre Guarda Quella là Troppi mob Vicini Sto singhiozzando Ma che ha Ma è fuori Scusa Ho il singhiozzo Ragazzi Perdonatemi Veramente Ok Mi so che devo fare Un po' di pausa Allora Dicevamo Ragazzi Mi è passato tutto E sembra anche Essere giorno In effetti Non so se tipo È not Cioè sta di nuovo Diventando not O che altro No 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 Ok Pericolo 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 Però non c'è Ok va bene No mi sa che sta di nuovo Diventando notte Però Ehi Quello È messa di sì Raga Quello è solar Vedete Il sole è molto più grande Prima era molto più piccolo Se vi ricordate Andate a vederlo È mo Ok Per fortuna Non sto bruciando Andiamo a vedere però meglio Se veramente è solar No scherzavo Me ne torno indietro Me ne torno indietro Prima che muoia Me ne torno indietro Prima che muoia Sto morendo Ok Però non morirò No Non morirò No in realtà era mattina E sì Quello è solar Guardate qui Accidenti Perché deve venire sempre Solar Lo sapevo io che alla fine Questo era un seed Maledetto No Via Ok bene Meno male Meno male ragazzi Meno male è morto Ma perché gli scheletri Sono così pericolosi Accidenti Ok Sapete cosa facciamo Ci facciamo un'armatura Va che è meglio E qua ci facciamo l'armatura Con tutto il ferro I piedini Ce li abbiamo Dobbiamo prendere altro ferro Altri materiali Perché come vedete Anche gli scheletri qua ci fanno fuori Figuriamoci i demoni Del male Quindi Direi di andare Immediatamente qui A prendere del ferrino Aia bro Mi sono rotto le caviglie Comunque Veramente Sua sorella Chissà la parentela Comunque di solar Che tipi sono Cioè Non so A voi viene da fare battute Oppure viene da inquietarvi Tipo Immaginatevi La sorella di solar Che tipo Di persona possa essere No Cioè persona Insomma di sole Possa essere Come si chiama Solaria Vi immaginate ragazzi Cioè Andrò a ricercare Se solar ha una famiglia Sarebbe assurdo Ragazzi Tipo solaria In realtà le trecce Al posto del sorriso Cioè fa il sorriso Sì ma con le trecce Sarebbe assurdo Davvero Facciamoci Oltre i picconi Perché è finito tutto Magari tipo Solaria E glamour Magari fa tipo Ciao ragazzi Sono Solaria E Ragazzi Io sto scherzando In questo momento Perché posso permettermi Di scherzare Perché è giorno Non ci sono pericoli A parte lui Cioè proprio brutto Ma poi non ricorda Un pochino Il zio Che arriva Insomma A mangiare A cena Senza offesa Per gli zii Però un pochino No Va bene Senza giudicare Adesso gli zii Che arrivano a cena A mangiare Poverini Poi scusami Che cosa hanno fatto Di male Dunis Eh brutto schiaffo Ok allora Mettiamoci anche Queste due armature Ci mancano Le gambe Ottimamente E abbiamo I pantaloni Ormai L'overworld Cioè questa parte Qui l'abbiamo vista Io direi di andare A vedere nel nether Quindi ragazzi Che è un'altra dimensione Di questo Di minecraft Per chi non lo sapesse Però sì In sostanza Anche il nether È brutta storia Sì Va bene Nel senso Immagino che tutti Conoscano il nether Però probabilmente In questo seed È molto diverso Dal solito Ma poi immaginatevi Anche la madre Tipo di solar Cioè è una vecchia Un sole vecchio Tipo Che cosa ha lì Ecco questo potrebbe Essere un indizio Su solar È tipo Ammuffito Va bene Allora andiamo qua Sapete cosa Mi crafterei immediatamente Un piccone In ferro Ovviamente Quindi primo piccone In ferro E ce l'abbiamo Avevano detto quindi Di andare in caverna Solar sta tramontando Ragazzi Ma in caverna Non c'è giorno e notte In caverna C'è solo buio E sapete cosa succede Al buio Che spawnano i mostri Quindi adesso Arriverà la parte Paurosa Cioè paurosa Nel senso Pericolosa Più che altro È anche paurosa Sì Cioè In realtà C'è stata bene Non è che finora Non c'è stata la parte paurosa Non voglio dire questo Anche perché Purtroppo Io mi sono un po' cagato Addosso Che è naturale Insomma Ma in certe situazioni No Ma do quegli occhi E dell'enderman Per fortuna Eh sapete che a volte Io mi confondo Con i mostri Poi la paura Ti fa vedere cose Che non esistono Quindi Non so Vogliamo metterci anche Aerobrine Di mezzo Non so Cioè Vabbè Grazie bro Che te devo di Vabbè però qui C'è una bella caverna Dove praticamente È letteralmente È enorme Cioè Assurdo Basta Ti prego Basta 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 triperone Ti prego Dai Perfetto Finito Pro Ma pro Ma che cos'è sta roba Questo mi sa che So io cos'è Si chiama Cave dweller Il cave dweller È il cacciatore Delle caverne No scusate L'abitante Delle caverne Significa letteralmente Dall'inglese Si traduce come Abitante delle caverne Questo abitante Delle caverne Non è simpatico Perché ti vuole uccidere Ovviamente Abita le caverne Quindi Poi mi chiedo Che cacchio Perché è tutto così Luminoso Luminescente Però tipo strano Raga ma cos'è Ti butto giù dal dirupo Pezzo No allora Non si dicono brutte cose Ragazzi ma C'ha gli occhi bianchi Non è possibile Ma io prima Me la son gufata Praticamente Avevo detto Mettiamoci pure Aerobrine C'è una freccia in testa Comunque Mettiamoci pure Aerobrine E infatti Mi sa che qualcosa Di Aerobrine Qui 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 Mi sa che ci sarà Ecco tipo Il cave dweller E' lì che se la gioca Se la balla Lui Si balla la fresca Lì in mezzo Alla caverna Con i soldi Con i scommettitori Ma raga Allora Ascoltate un attimo Perché tutto così Ne Cioè cos'è questa Cos'è questa Blackstone Ok Quindi vuol dire Che siamo abbastanza In fondo Giusto Mi abbandona Il tasto shift Adesso Non sapete Cos'è il tasto shift E' il tasto Che io premo Sulla tastiera Per farmi Star così E non cadere Quindi E Se mi abbandona Quel tasto lì E' finita Perché cado nella lava E muoio Stavo dicendo Che dobbiamo Prenderla qua Ah da lì Perfetto Allora Devo mettere qui La crafting table Ok Poi dopo rido Perché ragazzi Qua morirò Ma in una maniera Così spettacolare Ma io non sono certo Che morirò Ma raga Non c'è nemmeno da dirlo Porco due Vedete Ma io ve lo In qualche modo Io ci Oggi Ci muoio In questo Seed Ci muoio Palese Va bene Vabbè Eccoci qua Ecco lo scheletro Ecco lo scheletro Ecco lo scheletro Morco due No raga Regà Regà Cioè è veramente Pericoloso Vabbè Voi non mi credete Però insomma Io ve lo sto a di Peraltro sto anche dicendo Cos'è a caso Ragazzi Se sentite Perché poi Nel senso Mi credete Immagino che sappiate Che morirò Cioè lo sappiamo tutti Lo sai tu Che mi stai guardando Lo so io Che sto giocando E lo sa solar Che ci sta guardando Dall'alto Peraltro lui Caratteristica sua Peculiare Riesce a vedere Tra i blocchi Giustamente Perché Se no come fa a sapere Le creature Dove mandarmele E certo Vede fra i blocchi No Guarda ci mancava pure Il warden Ci mancava pure il warden Ma sapete cosa ragazzi Quello non era il warden Mi sa che quello Era il cave dweller Ok allora Aspettate un attimo Perché qua sto per piangere E sto ridendo Perché sto piangendo Cioè è un po' particolare Come cosa Ho messo quelle scritte Che aveva tristito prima Perché lì Mi dice il livello Allora io devo scendere Sotto Ancora di più Ok Così Male C'è uno scheletro dietro di me Ma io lo ignorerò Ok ragazzi Abbiamo un problema Cos'è Cos'è questa cosa Cos'è questa Cosa sei tu Stai via Stai lontano Va bene È morto Bisogna fare così Bisogna agire in questo modo Con le cose pericolose No Stiamo a livello O meno 6 Qui ci possono essere i diamanti Avevano detto di prendere i diamanti Per andare nel nether Ora Non so se troverò i diamanti Quel che so Io ragazzi do perché so per morire Cioè me lo sento Sono qua Sono qua i tizi che vogliono fermi fuori Sono praticamente qui Ok No 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 Tu non mi ucciderai Tu non mi ucciderai Tu non mi ucciderai Tu non mi ucciderai Allora ok 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 Allora Vedete che siamo a posto ragazzi Vedete che siamo a posto Abbiamo una sella Abbiamo i dischi Ma sì ma cosa ce ne frega Abbiamo una Name tag addirittura Che cacchio Ci serve proprio la name tag Allora Facciamo una roba Allora Mettiamo qua Facciamoci immediatamente Una Ascia In ferro Perché così La usiamo come spada Ok Perfetto E così possiamo sia tagliare le cose E sia rompe Cioè sia uccidere i nemici Perché ho fatto l'ascia Perché fa 9 di danno Fa molto di più Di una spada Anche se È molto più pesante Quindi bisogna Saper utilizzare bene L'ascia Bisogna saper utilizzare bene I tempi dell'ascia Allora Qui si sale Quindi Non ci serve molto salire Ci servirebbe scendere Ragazzi miei Quindi adesso Cosa farei Direi Di fare una roba Direi di continuare a scendere Quindi Ecco tipo Questo bioma qui è pericoloso Perché ci potrebbe essere Il warden E se c'è il warden Mi cago addosso Anche perché il warden Ragazzi Purtroppo È brutto Cattivo Proprio così Mi fa i pugni In faccia Adesso dovrò scavare Per tipo mezz'ora Ragazzi 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 il warden Ragazzi il warden Ragazzi il warden No 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 avete sentito Quella cosa di prima ragazzi Non so se era il warden Non so cos'era Ma io mi chiuderei dentro Così Allora Cos'è Re No 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 Il fatto è che non posso urlare Perché vi giuro Che sono veramente le tre di notte Ora direi di scavare No Direi di cambiare direzione Prima che Andiamo proprio dritto In muso al warden Se non sapete cos'è il warden È una delle ultime versioni Praticamente è stato aggiunto Nelle ultime versioni È un mostro Molto forte Fra tipo i più forti Che hanno aggiunto nel mondo Di minecraft Ed è C'è veramente Cioè se io con un'armatura di ferro Vado lì Io sono morto ragazzi I diamanti Benissimo Adesso con questi diamantoni Però prendiamo il cacchiarola Buttiamo questa La carne marcia Che non ci serve a niente Ok Con i diamanti Adesso Dovremmo Prendere la crafting table Farci il piccone in diamante E con questo piccone in diamante Bisogna andare a prendere La lava Quindi vado a prendere la lava Della lava finalmente Però Questa lava È un po' pericolesetta Perché è una di quelle lave cattive E vedete Quindi bisogna scavare qua sotto E bisogna mettersi un secchio di acqua Così si è protetti Sicuramente Sentendo i rumori Che io ignorerò Perché tanto non sono spaventato Cos'è 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 Cosa sei Cosa sei Cosa sei Non mi interessa cosa sei Scherzavo Non mi frega proprio niente Proprio zero Zero di zero Zero di zero Fan cucolo Fan cucolo Fan cucolo Fan cucolo Brutto 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 Mi sta Mi sta No ragazzi Ragazzi Che cacchi mi hai inseguito finora Oh mio dio Cos'era quella cosa Cioè più vanno avanti le notti ragazzi Più ci sono creature orribili Sarei morto se non scappo Per fortuna sono scappato Quindi Eccomi qua Sono vivo Però Adesso lo faccio fuori da qua Insomma Con un parolone Ok perfetto È morto Allora non era così tanto potente Però fidatevi che Se l'avessi cercato di sfidarlo Non Non mi sarebbe andato per niente bene Comunque Dormiamo E laviamoci nelle mani Ottimo così Ora Che cacchio è sta roba Ma what Ma c'è della nebbia qua ragazzi Io stavo per dire Facciamo il portale E invece qua è comparsa un'altra roba Che cacchio è sta roba È della nebbia E no Raga io non ci vado nella nebbia Non ci vado Ebbene sì ragazzi Ora siamo pronti per inaugurare questo portale Bla 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 Andiamo avanti Apriamo il portale Ed entriamo qui dentro E qui Ehm Chi ci aspetterà Cos'è in questa cosa Nel nether Le shader vanno tolte un attimo Perché Le shader nel nether Sono tutte quante un po' rotte Quindi Ma che cacchio Ragazzi Tutti questi cosi qua Sapete cosa sono Guardate Già Avete ben capito Ehm Non vedo più niente Cos'è successo Allora vi spiego Per chi non sappia Cosa sono i Sweeping up and Joel Sono praticamente Dei cosi Degli angeli Fatti di statua Praticamente Ehm Che quando non li guardi Si avvicinano a te Tipo Avete presente Un 2-3 stella al gioco Tipo quella cosa lì Solo che loro sono cattivi E ti vogliono far fuori Non è un gioco per loro Per loro vogliono Veramente farti Fuori E non so Mangiarti Una maledizione Che cacchio è sta roba C'avevo un occhio qua Guardateli lì Oh mio dio Cosa stanno facendo Assurdo Probabilmente stanno cercando Di venire da me ragazzi Vedete Peraltro Non so perché si muovono Quando io li guardo Non dovrebbero Forse perché ci sono dei blocchi E tipo Loro non mi vedono In realtà Nel nether Dobbiamo stare anche attenti Alla lava Perché Qui la lava Va molto più velocemente Che nell'overworld Quindi se scaviamo qualcosa È un problema Cioè dico Se scaviamo qualcosa Dove ce la lava È un problema Ora qui non c'è invece niente Quindi Bene così bro Andiamo avanti Vai Che bello Vabbè ragazzi Direi che per oggi L'obiettivo di vedere Il nether È stato raggiunto L'abbiamo visto Ci sono tanti mostri Tante cose Eccoci sto per cadere No No ragazzi No no Io ho l'infarto Ho l'infarto Vi giuro Sto avendo un infarto Non sto scherzando Non sto scherzando Sto morendo Cioè non è vero Non sto morendo tranquilli Però dico Ok Mi sono veramente Preoccupato tanto Qua avevo un'altra Maledizione No ragazzi Io stavo per chiudere Il video E invece qua Le cose mi appa Come è successo Ragazzi Come è successo Da dove è caduto Da lì forse No rega No 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 Ma voi siete fuori Come fanno Come fanno No 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 Che che Ragazzi No 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 Per favore No 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 Ok Io ve l'ho detto Che ci morivo Ma io ve l'ho detto Che ci morivo Ma No Ritorniamocene indietro All'overworld Grazie Ok 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 Non è ok Per niente Non è ok Per niente Non è ok Per niente Per niente Adesso Lì che cosa Ci aspetta Di là Va tutto bene Non c'è più niente Ragazzi Io terrorizzato Per questo gioco E alla fine Non siamo morti Se avete visto Questo è un aspetto positivo Per niente Non siamo morti Non siamo morti Non siamo morti Non siamo morti